Fosco, ma hai capito chi è arrivato? L'attore! Sono vent'anni che non ti fai vivo. Ho sentito il richiamo della famiglia, delle radici. Promettetemi che andrete sempre d'accordo. E cosa fa l'attore? Voi siete fratelli! Promettetemelo! Oh, chi è morta? Secondo te? Lascio ai miei due nipoti la casa di famiglia e tutti i terreni. Terreni. A patto che li gestiscano insieme d'amore e d'accordo. Eppure stamattina me lo senti. Che si sentiva? Che l'era una giornata di merda. Che l'era una giornata di merda. Che l'era una giornata di merda. Che l'era una giornata di merda.